Ciao bambini! Oggi le maestre vi mandano un abbraccio forte forte e tanti tanti baci. Ma vogliamo vedere insieme di che colore è un bacio? Ascoltate questa storia. Mi chiamo Monica, ma tutto il mondo mi chiama Minimoni. Quando vado in bicicletta sono più forte del vento. Mi piacciono le rondini, le torte alla marmellata di fragole e mi piace ascoltare le storie che mi racconta la mia mamma. A casa mi prendo cura delle piante sul balcone perché amo innaffiarle e raccontare loro cose belle per farle crescere più in fretta. Ciò che più amo fare però è colorare. Dipingo milioni di cose con i miei colori. Coccinelle rosse, cieli blu, banane gialle e anche pinguini e gorilla. Ma non ho mai dipinto un bacio. Di che colore è un bacio? Un bacio potrebbe essere rosso come gli spaghetti al pomodoro? Non credo proprio. Dicono che il rosso sia il colore della rabbia. E di certo non baci nessuno quando sei arrabbiato. E se fosse verde? Amo il colore dei coccodrilli. Sono così simpatici. Però odio le verdure che sono verdi. Non mi piacciono i broccoli e neanche i piselli. Gli spinaci. Beh, forse un pochino i carciofi. E se fosse giallo? Amo il colore dei girasoli. E delle buone idee. Perché le buone idee sono gialle, vero? Ma nonostante i baci siano dolci come il miele... Odio, non mi piacciono le api! Aiuto! Forse potrei colorarlo di marrone. I baci sono dolci come il cioccolato e magici come il bosco in autunno. E se fosse bianco come la neve e luminoso come la luna e le stelle? I baci però sono caldi, mentre la neve è così fredda. Ho trovato! Forse i baci potrebbero essere rosa, perché sono deliziosi come i miei dolci preferiti. Mmm! Niente da fare! Non sopporto né le fate e né le principesse. Dicono che il blu sia il colore della tristezza. Davvero? Splash! Non direi proprio! Odio il nero del buio. E dei mostri! E neanche il grigio del fumo! Mamo gli elefanti, i rinoceronti, gli ippopotami e le pecore nere! Sono divertenti! Come alcuni baci! Minimoni! È confusa! Mamma, tu lo sai di che colore è un bacio? Certo, Minimoni! Di tutti i colori del mondo! E voi? Di che colore pensate sia un bacio? Volete provare a disegnarlo? Ciao! A presto! E di nuovo, tanti, tanti baci! E di nuovo,